Nuova classifica di estetica, di bellezza, e stavolta mettiamo in classifica le armature d'oro di Sensei Omega. E sicuramente ci sarà chi dice, sono tutte quante orribili, tutte quante una più brutta dell'altra, quindi la classifica non ha senso. Ma in realtà ci sono alcune scelte di design che sono abbastanza interessanti, che personalmente apprezzo molto, così come ce ne sono altre che invece sono totalmente da buttare. Sono 14 armature, perché per Sagittario e Bilancia abbiamo due versioni, quindi già che ci siamo, tanto vale farle tutte. Quindi vediamo quante ve ne ricordate, e ovviamente essendo una classifica di estetica, questi sono i miei gusti personali, la classifica di un'altra persona potrebbe essere totalmente diversa. Ma cominciamo dal quattordicesimo posto e ultimo, dove metto l'armatura dei Gemelli. E si tratta di una corazza che, già di suo, secondo me non è granché. Già l'armatura dei Gemelli originale, di partenza, penso che non sia una delle migliori. Mi piace il totem, però è sempre stata un'armatura troppo pesante una volta indossata. Questa versione di Omega cerca un pochettino di renderla più sfivata, però la femminizza troppo. Con il fatto che viene indossata da una donna, da Paradox, viene ristretto il pettolare per creare la protezione per il seno, che però secondo me stona in questo caso. Ma soprattutto non riesco a farmi piacere quella specie di tendina, di fuara, che c'è sui coprispalla, che in un certo senso strizza l'occhio alla forma classica dei coprispalla. Però non ha nessuna ragione d'essere, francamente, non si capisce se è un pezzo di stoffa sopra il metallo o se è quella la protezione, ma è abbastanza imbarazzante. Così come imbarazzante è l'elmo. L'elmo dei Gemelli non mi è mai piaciuto tanto, però almeno ha quella cosa delle due facce con espressione opposta che gli danno la sua ragione d'essere. È sicuramente il pezzo più caratteristico. In questo caso le facce rimangono, però vengono congiunte da quella specie di catenina, di orpello, che secondo me rovina definitivamente il diadema, quindi il quattordicesimo posto netto. Tredicesimo posto ci va il compagno di merende storico di Gemini, cioè Virgo, perché l'armatura di Fudo è molto pesante. Ora capisco cosa hanno voluto fare gli autori. Hanno creato un look dalle mille e una notte, un look che riprendesse la natura indiana del Cavaliere della Vergine, in questo caso di Fudo, quindi con scarpe, coprisparola, ginocchiere, protezioni per i gomiti, molto molto pesanti e vistose e molto orientaleggianti. Ora, da una parte l'utilizzo di elementi orientali funziona meglio rispetto a quelli puramente più occidentali, puramente più cristiani, dell'armatura della Vergine classica. Però comunque qualcosa di molto, con le scarpe a babbucce, qualcosa di molto ingombrante, qualcosa che va bene per un personaggio molto poco mobile, molto sedentario come Fudo, ma comunque non dà l'idea di un'armatura che possa davvero essere usata in combattimento. E anche qui c'è quella specie di Fuar nel mento come protezione per il collo, che sinceramente non sta tanto bene. Quindi Fudo, Virgo, tredicesimo posto. Al dodicesimo posto metto l'armatura del Leone, che è la seconda armatura d'oro, anzi la terza dopo quella di Pegasus e di Ionia, che viene mostrata in Omega, ed è un'armatura troppo semplice. L'armatura del Leone classica è un'armatura sì semplice, ma comunque elegante. È un'armatura che riprende bene lo spirito di un'armatura, tra virgolette, reale. Al contrario, l'armatura del Leone di Michene, pur mantenendo quelle forme rigenerali, le semplifica troppo, le rende troppo sottili, troppo aderenti, troppo sinuose, e personalmente non credo che funzioni. Non ha qualcosa di enormemente brutto come Vergine o Gemelli, ma è troppo semplice in realtà, per essere un'armatura d'oro troppo sottile. Non credo che si vada a perdere la bellezza dell'armatura del Leone originale. Undicesimo posto, la prima armatura del Sagittario, quella usata da Seiya, che anche in questo caso ha molti dei difetti di quelli del Leone. C'è un'armatura troppo sottile, troppo aderente. Si vede che in queste prime colazze si era cercato di creare un look estremamente semplice da animare, se vogliamo, estremamente aderente al corpo, ed è vero che quella del Sagittario ha meno areari, però si tratta davvero dell'unico elemento di risalto. E poi anche in questo caso abbiamo questa scelta della sciarpetta come elemento decorativo, che dovrebbe essere una scelta di design cool, qualcosa che rende Pegasus più affascinante, ma continuo a trovarla inadatta. Preferivo i vecchi mantelli, ma sciarpetture, fuara, queste cose qui, secondo me, vanno bene come accessorio del personaggio sopra l'armatura, ma non come pezzo dell'armatura. E nel caso del Sagittario vedremo poi più avanti che invece no, la sciarpetta è proprio un pezzo di armatura. Sotto c'è il coro scoperto di Seiya, quindi non ha niente di caro. Decimo posto ci va l'armatura di Amor, che sarebbe l'armatura dei pesci. Ora, l'armatura dei pesci non ha particolari difetti, tutto sommato, la metto qui un po' più per merito delle altre che iniziano a diventare un po' più carine, e perché la corazza dei pesci in generale non mi è mai piaciuta tanto. Anche quella di Amor ha degli elementi di stoffa, è una costante di almeno una metà delle armature d'oro di Omega, ma almeno il fatto che la stoffa sia scura la rende meno appariscente, quella specie di bavero di colo alto. Detto questo, però, rimane un'armatura che per fortuna non è eccessivamente aderente, è un po' più massiccia rispetto alle altre, e si distinguono gli elementi caratteristici dei pesci. Però rimane un'armatura che non ha niente di particolare, secondo me niente che la faccia emergere dalla Medi. Nono posto per la prima armatura della bilancia, quella usata da Genbu. Di nuovo, corazza abbastanza semplice, ma stavolta non troppo, perché la presenza delle armi crea i giusti elementi di spessore qui e lì. Non mi piace la presenza del coprispalla, dello scudo sul coprispalla, ma è interessante vedere che entrambi gli scudi sono incastrati uno su altro per lasciare libere le braccia, quindi se non altro è una scelta di design particolare che va un pochettino a cambiare quella classica dell'armatura della bilancia. La protezione per i fianchi, che scende fino a metà coscia, è un pochino troppo aderente per i miei gusti, però per il resto è un'armatura che mi piace. Si distinguono appunto tutte le armi, c'è quella gemma verde che dà profondità e ci sono abbastanza freggi e decorazioni da rendere interessante. Purtroppo non ne vediamo mai l'Eumo. Questo è un difetto di molte delle armature d'oro di Omega ed è un peccato perché l'Eumo è comunque un pezzo importante che, almeno brevemente, sarebbe dovuto essere mostrato sempre. Però nel complesso è già un'armatura che non mi dispiace troppo. Così come non mi dispiace troppo all'ottavo posto l'armatura dell'acquario. In realtà, l'ottavo e il nono posto sono molto interscambiabili. L'acquario diciamo che parte da una base più forte e l'armatura dell'acquario di Omega, che sarebbe l'armatura di Tokisada, è estremamente simile all'armatura dell'acquario classico. Rimbruttisce un pochettino, la semplifica un po' troppo, anche se almeno di questa armatura veniamo anche il totem. E non capita spesso in Omega di vedere i totemi delle armature. Si vede anche il totem di quello della bilancia, ma è un totem brutto, mentre invece quello dell'acquario è molto simile ad una versione un po' più elegante del totem originale. Quando però l'armatura viene indossata, complice anche la presenza di quel orribile spirito marigno, teschio, che compare sul pettorale, non riesce a rendere bene. Si perde buona parte della sua eleganza, del suo fascino, quindi diventa un'armatura semplicemente mediocre che si posiziona qui, all'ottavo posto. Settimo posto, la V2 del Sagittario, che sarebbe quella che Pegasus indossa nelle fasi finali di Omega. In questo caso è un'armatura molto massiccia, è un'armatura più classica in termini di spessore, di dimensioni, però è appestata da un numero eccessivo di gemme. Devo dire che non mi dispiace per grosse parti, perché alla fine l'armatura del Sagittario classica resa un pochettino più massiccia e barocca, però quelle gemme che richiamano a Crotstone di Pegasus, si presume anche del Sagittario a questo punto, sono troppo ingombranti, troppo vistose e posizionate in punti come le ginocchia, dove sono un pugno in un occhio. Ed è un peccato, perché se non fosse stato per lei sarebbe stato un bel upgrade rispetto alla classica armatura del Sagittario, che già di suo male non è. Sesto posto metto l'armatura del Capricorno, ed è un'armatura, quella indossata da Ionia, delle forme molto molto classiche. Sono contento che abbiano mantenuto l'ermo chiuso del Capricorno, perché pur essendo un ermo ingombrante e pesante, è anche qualcosa di distintivo e caratteristico della corazza della decima casa. Inoltre, la stazza di Ionia, che è molto più grande della media, dimensioni a Debaran per intenderci, fa sì che l'armatura appaia comunque un po' più svanciata. e l'ermo stesso sembra stonare di meno in testa Ionia rispetto che in testa Shure. Rimane però un'armatura dal design di partenza molto molto semplice, lineare, senza particolari freggi o decorazioni o cose del genere. Sono carine le due fibbie che mantengono il mantello, però ecco, a parte questo, devo dire che pur essendo stata creata prima dell'armatura del Reone, soffre di meno l'idea di sottigliezza che invece viene da quella di Michene, ma nel complesso rimane un'armatura benino ma niente di più. Ci stiamo avvicinando verso il podio top 5 e al quinto posto metto l'armatura di Ariete, l'armatura indossata da Kiki. Ho già avuto modo di dire in altri video che la preferisco persino la versione classica. ricorda molto quella versione classica. Tutte le forme sono simili ma la presenza di quelle gemme rosse sui fianchi le corna delle variete che sono un pochettino più sottili e in generale un design leggermente più morbido me la fanno preferire rispetto all'armatura classica. Sia anche quella originale è una bella colazza però tende ad essere un pochettino troppo monocromatica per i miei gusti mentre questa versione di Kiki ha quel piccolo tocco di colore in più che apprezzo così come apprezzo il mantello in questo caso che viene fatto passare davanti ma appunto non è un pezzo di armatura è un mantello indossato sopra l'armatura quindi in questo caso per quanto mi riguarda ci sta molto meglio e l'armatura si posiziona qui al quinto posto al quarto posto va miracolosamente l'armatura del toro e dico miracolosamente perché l'armatura originale del toro sicuramente non è granché è una delle armature che mi piace di meno troppo tozza troppo quasi rozza con quegli addominali scolpiti sulla pancia quei corni sui coprisparla invece in questo caso sui gomiti sulle ginocchia invece in questo caso l'armatura del toro di Harbinger pur riprendendo le forme tutto sommato di partenza dell'armatura del toro classica la semplifica abbastanza rimangono le corna sui coprisparla ma sono soltanto qui e l'appiattire bracciali e ginocchiere secondo me la rende un po' più elegante così come apprezzo molto quel tocco di colore quel viola sul pettolare che arreggerisce ulteriormente l'armatura non c'è più la riproduzione d'oro dei muscoli del petto e dei muscoli dell'addome ma ci sono forme più metalliche più colazzate un pochettino meno tamale quindi nel compresso credo che l'armatura del toro sia un passo avanti in questo caso rispetto alla classica e la metto qui al quarto posto terzo posto metto lo scorpione che è l'armatura di sogna in realtà in questo caso vince di riflesso perché si tratta quasi completamente dell'armatura di scorpio originale perde un pochettino il diadema ed è una perdita importante se il diadema fosse stato bello probabilmente sarebbe stata al primo posto in questa classifica però la presenza della maschera con quegli occhi rossi dà comunque un tocco di colore che bilancia in qualche modo la corazza eppure essendo un'armatura femminile non si esagera troppo con le forme femminili come invece era stato con quella di paradox per il resto è l'armatura dello scorpione fatta e finita quindi con tutti i pregi di una delle armature più belle di senseia e si posiziona qui al terzo posto secondo posto la v2 della bilancia la v2 della bilancia è l'armatura che indossa sirio nella parte finale di omega mi piace molto perché è praticamente un'armatura di un drago dorato infatti mentre l'armatura classica della bilancia contiene elementi di drago e tigre e in particolare la tigre rappresentata dall'ermo di doko invece la v2 di sirio è un drago e basta questo fa perdere un po' della simbologia della corazza del suo yin e yang ma al tempo stesso è molto adatta al personaggio di sirio perché vedere un diadema a forma di testa di drago d'oro comunque azzeccato per tutto ciò che sirio è e diventato rappresenta e così via per il resto è praticamente l'armatura classica con anche quello che per me è un difetto di avere uno scudo sulla spalla e l'altro sul braccio avrei preferito entrambi gli scudi sul braccio a questo punto come nella versione anime mentre invece avere uno di qui e uno di lì è tipico del manga classico ma amen tutto sommato è un design che risale a kurumada quindi lo si accetta per quello che è ma a prezzo che si distinguono tutti i pezzi delle armi a prezzo che ci siano freggi apprezzo la decorazione sul petto alla fine è un'evoluzione molto sensata dell'armatura classica della bilancia e appunto indossa un personaggio collegato a drago come sirio per me sta bene infine vincitrice al primo posto c'è l'armatura del cancro l'armatura di shiver e io devo dire che adoro questa corazza per il suo design asimmetrico riprende degli elementi classici del cancro arreggendovi un po' e per quanto mi riguarda lo fa bene so che molti sono fan dei coprisparla a cheva per esempio dell'armatura classica del cancro ma personalmente io no quindi sono felice che qui vi abbiano chiusi ricordano magari un po' più quelli di dragone del mare ma vi preferisco così rispetto al classico ma soprattutto mi fa impazzire la simmetria di questa armatura per avere una mezza maschera stile veneziano come diadema certo un po' inutile ma i diademi sono tutti abbastanza inutili e avere il cinturino molto più lungo da un orato che diventa quasi un gonnellino ma soltanto su un orato non su entrambi quindi è un'armatura molto asimmetrica ma è una simmetria che secondo me non la rovina non stona ma anzi sta abbastanza bene inoltre mantiene tutti gli elementi colorati della corazza classica con soprattutto i freggi blu sul petto e quelle gemme sul collo e su addome quindi credo che riprenda bene la versione di partenza aggiungendo qualcosa che dà un tocco di eleganza in più e togliendo quegli elementi che invece per quanto mi riguarda la rovinavano quindi ecco questa è la mia classifica finale voi invece che ne pensate qual'era vostra ve le ricordate scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto non vale scrivere non me ne piace nessuna fate una classifica noi ci vediamo al prossimo video ciao